E' accusato di gestire un ingente traffico di stupefacenti nella bassa padovana, il 54 anni di Monselice, arrestato dai carabinieri a conclusione di una meticolosa indagine che, decifrando codici e pseudonimi da quello che può essere considerato il libro mastro dello spaccio recuperato nell'abitazione dell'indagato, ha anche ricostruito la rete di clienti. Tra cocaina, hashish e marijuana, i proventi raccolti tra il 2015 e il 2018 sono stati stimati in almeno 50.000 euro in un giro di vendite a clienti spesso abituali che in alcuni casi prevedeva anche la consegna a domicilio.